E' cosa... Qual è il problema? Qual è il problema? No, tu sei stata la prima a vedere l'omicidio del mondo Con la mani, con la mani, con la mani C'è stata la prima a trovare l'interno, si Ah siiii Ma scusami, non c'era tutto buio E con il Maggiardomo c'è... No, no, no Tres! Le luci le spegnevi veramente Voi spegne la fai Ok Va bene, va bene No, va bene, le faccio io Non c'è problema Ascolta, Tres! Ma tu, le cosine... Le faccevi apposta o per... Che colpe? Non lo so No, Tres! Ma non... Tres! Magari può averlo ucciso Mentre sarà l'ultimo Aspetta a me Valà, valà, valà Si sarebbe! Ciao Mario Ehi, lascia tutto! Si sarebbe la massa Nooo! Nooo!